Come lo suddividiamo? Beh, si suddivide in base alla modalità anatomica di nascita, quindi nascita per il distretto addominale, quindi parto chirurgico, parto cesareo, e nascita per le vie cosiddette naturali, parto vaginale. Parto vaginale viene suddiviso in parto eutocico rispetto al suo contraltare distocico. Tokos in greco significa contrazioni, quindi eutocico è un parto normale, distocico è un parto non normale. E il parto può anche essere spontaneo, spontaneo significa che è iniziato spontaneamente senza alcun tipo di induzione medica di travaglio. E il parto naturale rispetto al parto medicalizzato è qualcosa che si può attribuire solamente al termine del processo, perché il parto naturale è un parto che avviene senza nessun tipo di presidio farmacologico e senza intervento chirurgico, mentre il parto naturale avviene appunto senza alcun intervento. Tra i tagli cesari distinguiamo tre possibilità. Il taglio cesario elettivo, ovvero un parto chirurgico che viene organizzato secondo una certa data e rispettato a tale data. Il taglio cesario avviene in urgenza qualora invece non sia un cesario ad eseguirsi entro un relativo breve lasso di tempo, quindi da mezz'ora a due ore. Il taglio cesario di emergenza è una condizione non poco assinabile ed è a rischio per la vita, sia per la mamma, per difetto, e va affrontato in maniera immediata. Ma di chi stiamo parlando? Chi sono questi attori? Mamma e Feto, nonato. E per capire come compartecipano questi attori è importante fare un passo indietro e capire un po' le condizioni anatomiche, le condizioni neurologiche di queste due creature. Quindi le condizioni, diciamo, fisiologiche, neurologiche del cucciolo di essere umano sono condizioni peculiari perché durante l'evoluzione il mantello del corteccio cerebrale ha reso il cervello degli esseri umani più grandi rispetto a quelli che sono i perimetri del bacino osseo della mamma. E quindi per la natura dell'essere umano ha trovato un escamotage. E questo escamotage era, cioè, tra sorpassare questo ostacolo meccanico, il fatto di un bacino relativamente più piccolo degli esseri umani determinato dal fatto che il bipedismo induce un avvicinamento degli arti inferiori e questo avvicinamento degli arti inferiori ristringe automaticamente il bacino. E la scatola cranica del bambino più grande facevano sì che ci fosse proprio questo momento di affrontare tramite un escamotage. L'escamotage è stato nel suddividere la gestazione in due parti. una endogestazione e una esogestazione, ossia una gestazione all'interno del viscere uterino e una gestazione al di fuori dell'utero e quindi che prosegue a contatto sempre con la mamma. In tal senso un lavoro e anche un libro molto interessante è stato scritto da una studiosa ricercatrice americana vissuta nel Novecento e morta pochi anni fa, Jeanne Lidloff. Jeanne Lidloff si era arriccata da giovanissima tramite una coppia di ricercatori di diamanti italiani in Venezuela e si è imbattuta in un villaggio di indigeni chiamati Ikequana. Più che per le pepite preziose, Jeanne Lidloff è rimasta estremamente colpita dal benessere della popolazione locale, ma soprattutto dall'armonia con la quale i bambini si relazionavano tra di loro e poi con gli adulti. Quindi ritornò in quello stesso villaggio e rimase dieci anni. E capì che il perno di questa armonizzazione all'interno del villaggio era in una cosiddetta continuità tra la vita intrauterina e la vita exauterina dei neonati. Neonati subito dopo il parto rimanevano a contatto per la pelle con la madre e venivano subito esposti a quegli stimoli multisensoriali che la giungla, la foresta, offriva. E tutto ciò veniva mantenuto per i primi sei mesi dalla nascita. Poi improvvisamente queste creature sembravano aver acquisito quel potenziale di indipendenza, sembravano aver raffinato tutta la loro macchina sensoriale e quindi avevano acquisito quell'indipendenza che si sarebbe mantenuta per l'epoca a venire. Ovvero queste creature difficilmente chiamavano in aiuto i genitori, sembravano sbrigarsela dal sole, sembravano aver acquisito quel potenziale di indipendenza straordinaria che è insito in ognuno di noi. Ma come dire, l'esperienza di Jean Lidloff non è ovviamente universale e non può rappresentare il panorama sfaccettato delle tribù che l'etnologia è andata a classificare. E come dire, se volessimo trovare due filoni in ambito etnologico, troviamo un filone legato al principio di sopravvivenza o il principio anche di espansionismo, di dominazione della natura. E diceva bene John Baker, che è un antropologo, che la natura viene percepita dall'uomo secondo il valore che gli stessi uomini attribuiscono alle donne. Per cui una società nelle quali le donne non sono considerate, è una società che normalmente espone a un atteggiamento nei confronti della natura, piuttosto bellicoso, di dominazione, anche di paura. E quindi troviamo tra gli innumerevoli esempi che la storia ci offre quello degli spartani. I spartani erano caratterizzati dal fatto di essere ovviamente una popolazione che per vantaggio evolutivo, per sopravvivenza, hanno bisogno di combattere, di espandersi, di dominare la natura e quindi l'atteggiamento degli spartani nei confronti del neonato al parto era di disturbare quel primo contatto tra mamma e bambino. Quindi il bambino veniva separato immediatamente dalla madre e veniva scaraventato per terra. Ma la donna comunque aveva una sua posizione di rango all'interno di Sparta qualora generasse 5-6 maschi o generasse un numero totale di figli, ma ancora di più avrebbe avuto, come dire, un riconoscimento se fosse morta al parto, durante il parto, e in quel caso avrebbe avuto diritto a un'iscrizione nella tomba funeraria. Contraltare a questo atteggiamento di dominio sulla natura è da parte di quelle civiltà preagricole, cacciatori e raccoglitori. E qui vediamo i boshimani, i kungsang. I kungsang danno un'importanza incredibile al rispetto del primo contatto tra mamma e bambino, momento che sembra essere di importanza incredibile, forse è un momento di maggior imprinting in assoluto nel corso della vita di una persona. E quindi quel momento è così determinante nel fatto che questa popolazione ha bisogno di sviluppare quella sensibilità, quella capacità di percepire la natura come un'amica, ma anche di percepire che vi è una simbiosi, una sacra simbiosi da rispettare. E addirittura i boshimani vedono come prima ostetrica la madre terra, per cui la donna nel corso del travaglio si allontana e va ad abbracciare la sua prima ostetrica, la madre. madre terra. Nel caso poi interviene l'ostetrica saggia, come si dice in francese, come si denomina la parola ostetica sage femme, che è la donna normalmente più esperta del villaggio, la donna con più sapienza. E quindi nel caso dei cacciatori e raccoglitori vi è un vantaggio evolutivo opposto a quello di Spartani nel preservare il primo contatto tra mamma e bambino.